Se stai avendo problemi riguardo al gioco Until Dawn che è appena uscito così il remake sul computer ma stai avendo problemi ad avviarlo in questo caso è possibile risolvere i problemi aggiornando i driver della scheda grafica e aggiornando anche i driver e facendo aggiornamenti su Windows Update ovviamente andiamo direttamente sul nostro programma GeForce Experience oppure direttamente il programma che si chiama Nvidia App Download basta che scrivi Nvidia App Download e ti porterà direttamente sulla pagina per scaricare l'applicazione che ti fa scaricare i driver per la scheda grafica e anche configurarla quindi se adesso vado direttamente su Nvidia App ecco qua vado direttamente su driver ed eccoli qua ho appena scaricato e installato gli ultimi driver rilasciati il primo di ottobre quindi scarica e installa così i driver se hai una scheda grafica Nvidia invece se hai una scheda grafica AMD c'è il programma AMD Software Adrenaline Edition è lo stesso programma come quello di Nvidia dove tu scarichi e installi così i driver per la tua scheda grafica io non posso installare questo programma perché non lo sopporta il mio computer poi una volta fatto vai direttamente qua sopra ti ho lasciato sempre il link in descrizione basta che scrivi direttamente su google old drivers download old drivers Nvidia download basta cerchi così il tuo driver io ovviamente cerco il driver per la mia scheda grafica GeForce RTX serie 30 3070 Windows 11 e faccio trova devi scaricare il driver GeForce Game Ready come puoi vedere data rilascio il primo di ottobre questo è per i giocatori e questo invece per chi usa il computer per lavorare quindi fai vedi scarichi e installa così il driver se non dovesse bastare andiamo direttamente su gestione dispositivi vai sulla tua scheda video ed eccola qua c'è una driver cerca driver nel computer vedi se ci sono aggiornamenti qua sopra fai avanti scarichi e installa così il driver per la tua scheda grafica se no vai a vedere su windows update quindi windows update se ci sono degli aggiornamenti da fare verifica disponibilità aggiornamenti ho installato l'ultimo aggiornamento l'ultima versione di windows 11 versione 24 h 2 è appena uscita questa nuova versione sto facendo così un aggiornamento per microsoft defender antivirus ora andiamo direttamente sulla cartella quindi andiamo direttamente sul gioco da scrivere qua sopra anti door se me la trova vado sull'applicazione base64 shipping mostro attropazioni proprietà compatibilità disabilito ottimizzazione schermo intero eseguiamo questo programma come amministratore e faccio ok tutta volta non mi resta che avviarlo ed ecco qua il gioco ovviamente sta facendo una compilazione shader quindi in base all'hardware l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti quindi dobbiamo attendere solamente il completamento della procedura per non avere problemi anche di crash sul gioco ti consiglio anche di abbassare la grafica di ridurre anche il post processing e di ridurre anche gli effetti che si fanno direttamente nel gioco quindi se riduci queste cose qua non avrai neanche i problemi di crash quindi in questo caso vado su impostazioni vado su video ed eccolo qua ho messo tutto qualità generale e ultra perché la mia scheda grafica riesce a sopportare così queste impostazioni però ci può anche essere il rischio di crashare durante il gioco quindi lo tengo su medio e mi ha ridotto anche la grafica quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao